Mister, a rigore di Volpicelli, diga la verità, quanto ci credeva di ribaltarla? Ma è quanto ci credevo, è chiaro che le partite poi sono fatte anche di episodi, molto probabilmente se fosse passato un quarto d'ora o venti minuti dal loro 2-0 sarebbe diventato molto complicato. Il fatto di avere immediatamente fatto il gol del 2-1 è chiaro che ci ha rimesso subito in partita e ci ha dato una scarica di adrenalina per portare in fondo la partita con grande intensità, provando a pareggiare. Poi nel secondo tempo è chiaro che una volta che abbiamo pareggiato ci siamo spinti, avevamo la percezione di poter far male e quindi anche all'interno dello spogliatoio ce lo siamo i detti, di continuare a fare le nostre cose perché poi bastava veramente un episodio per poter ribaltare e quello che avevamo pensato sono contento perché poi il campo ci ha dato ragione perché quelli che sono entrati hanno spostato gli equilibri e questo è sinonimo di grande coesione, di forza e che i giocatori sono, insomma è un gruppo estremamente importante che sa anche sopperire alle difficoltà. Commissario, cosa è successo tra il primo e il secondo tempo? Cosa ha detto soprattutto lei e la squadra? No ma abbiamo analizzato ciò che stavamo facendo bene e ciò che potevamo soffrire perché poi i gol sono stati un po' episodi perché ci sono stati grandissimi tiri in porta, un calcio piazzato dove sappiamo che poi tra l'altro è stata una sfortunata e una deviazione di Soprano però sappiamo che Volpicelli ha grande piede e che sulle palle inattive potevano essere estremamente pericolosi poi vabbè l'episodio del rigore non lo so, lo devo rivedere perché ancora non l'ho rivisto però è vero che quando riuscivamo a fare uscire la palla pulita davamo la sensazione di pericolosità nel momento in cui invece abbiamo giocato un po' timidi o il nostro giro palla era lento è chiaro che andavamo sul mondo della Viterbese però abbiamo analizzato la partita, abbiamo cambiato sistema siamo passati a tre perché tanto era quello che volevamo fare in maniera dinamica con Arrigoni o con l'apertura di una mezzala ci siamo messi direttamente a tre anche perché Jacoponi non poteva giocare più di un tempo gli ho chiesto un sacrificio, avevamo programmato 30 minuti gli ho chiesto il sacrificio di farne 45 perché secondo me poi a tre è chiaro che siamo stati molto più solidi e soprattutto quando avevamo la palla dietro costruivamo con più efficacia e tranquillità Ecco, mi sarei un cliché un po' studiato, un controtendenza rispetto a quello a cui eravamo abituati del Teramo cioè darsi campo davanti per provare le ripartenze Sì, anche perché la scelta di Bernardotto, di Cisco e di Rosso era proprio orientata a questa perché volevamo tirare fuori le loro mezzale e i loro quinti in maniera tale da isolare nell'uno contro uno nella velocità i nostri attaccanti che con Ricci, Martinelli e D'Ambrosio in velocità magari li potevamo mettere in difficoltà discorso diverso, se gli spazi erano più corti da attaccare loro sono esperti, usano benissimo il corpo e quindi difficilmente ci facevano girare quindi era un po' quello che volevamo fare Ecco, cosa significa e quanto vale questo secondo successo consecutivo in Teramo che ora può guardare anche in alto? No, 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 stiamo orientati a quello che c'è da fare, a quello che è il nostro obiettivo che è la salvezza, è chiaro che dobbiamo dare continuità a queste prestazioni, a questo atteggiamento analizzeremo ciò che non è andato perché ci sono stati anche degli sviluppi in cui avevamo sbagliato a occupare gli spazi perché secondo me poi se no avremmo potuto essere anche più pericolosi però pensiamo partita o mai partita ora erano 15 le finali da giocare, le prime due le abbiamo vinte e ora ne mancano 13 però la nostra testa è già mercoledì per la Pistoiese che è un'altrettanta partita estremamente importante in chiave classifica Se chiedevi ieri continuità di prestazione, mi passi il termine continuità invece nel temperamento hai trovato? Sì, 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 ma io penso che poi l'analisi che abbiamo fatto dopo Imola questo, insomma, il gruppo ha dimostrato di aver capito È sembrata una gara spartiacque, Imola un po' come era stato Montevarchi Sì, 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 penso anch'io perché eravamo partiti molto forti a Pesaro poi ogni tanto ho la sensazione che come cambia un attimo l'idea di strategia quindi che non chiedo la grande aggressione in avanti tendiamo ad avere un atteggiamento più passivo e ci snaturiamo un po' e quindi questo sicuramente è un errore che io in chiave strategia gara non lo commetterò più, chiederò sempre grande aggressività fino a quando ce la faremo anche perché ora abbiamo l'opportunità con i cambi di cambiare caratteristiche ma di mantenere alto la pericolosità e soprattutto la qualità del gioco E commissario, non vorrei essere ripetitiva ma come a Pesaro una nota di merito anche per un centinaio di tifosi che vi hanno incitato dall'inizio alla fine anche quando eravate sotto di due reti? No ma la curva per noi è una costante, è un valore assoluto, ripeto me lo sentirete dire tantissimo questa è una curva che adora la propria maglia e mi ripeto per l'ennesima volta a cultura del tifo nel senso che loro incitano la squadra nel bene e nel male anche quando le prestazioni sono brutte o quando la squadra sta giocando bene loro sono da esempio per tutti quanti e spero che questo atteggiamento lo abbiano tutti poi al novantesimo è chiaro che ognuno deve esprimere nel bene e nel male le proprie emozioni anche fischiando se la squadra ha giocato male però fino a quando anche nelle difficoltà sentire il calore del pubblico l'incitamento dei nostri tifosi è chiaro che ci aiuta ci dà una spinta in più a superare le difficoltà Commissario è l'ultima da parte mia se i punti fossero 37 con la Pistoiese sarebbe un match point i punti sono 28 e un set point? No, intanto pensiamo e proviamo è chiaro che come sfida a salvezza è una partita estremamente importantissima perché vincendo metteremmo un bel mattoncino sul nostro obiettivo e quindi è una finale come ti ho detto prima da non sbagliare in primis nell'atteggiamento dando continuità a quello che stiamo facendo ultimamente ma giocando al Bonolis dobbiamo cercare anche di aumentare la nostra qualità di gioco perché se riusciamo a farlo è chiaro che possiamo regalare emozioni forti e ci possiamo togliere delle grandi soddisfazioni C'è presente tutta la dirigenza compreso il patron Davide Ciaccio a cosa le hanno detto a fine gara? Ma c'era grande entusiasmo hanno fatto complimenti a me e alla squadra ma insomma sono anche io che ringrazio loro anche per l'ultimo sforzo l'ho fatto ieri, lo ribadisco oggi perché è chiaro far entrare all'interno dello spogliatoio un giocatore come Jacoponi è chiaro che dà grande esperienza dà qualità è un giocatore che riesce anche a farci gestire delle situazioni tra virgolette sporche senza pensare al peggio ma cercando di dandoci la soluzione a quello che potremmo fare e quindi è un valore assoluto quindi lo ringrazio perché lì ringrazio la società perché è uno sforzo che ha dato un senso un senso allo spogliatoio un senso alla squadra un senso alla società un senso ai tifosi ed è un acquisto che garantisce la bontà del progetto Terra